Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda per mezzi in lento movimento tra Sassomarconi Nord e BV1 Variante in direzione di Firenze. Tra Firenze e Maria possibili disagi tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e BV111, tutto verso Firenze. Fipili possibili disagi per gli spostamenti matutini tra la Strassigna e Firenze Scandici, ancora una volta verso il capoluogo. Per un trasporto eccezionale segnaliamo in Fipili la chiusura della rampa in entrata dello svincolo di Montelupo-Fiorentino in direzione mare fino alle 23.59 di questa sera. Prima di sortarci per il traffico urbano di Firenze segnaliamo tra gli altri cantieri con piattaforma aerea in zona Via delle Ortenzie e Viale dei Bambini, Piazza dell'Isolotto. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!